Amico, mi ricevi ombre? Ho un problema qui, roba grossa. Ti vadi? Fare una scappata, ti mando le mie coordinate. Vieni appena vuoi, amico. Grazie per la visione. 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 Grazie a tutti. 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 Questo è il bersaglio. Il risultato è il risultato. questo posto è più bello quando va a e Emergenza, Rico. Abbiamo localizzato un veicolo militare lì vicino che trasporta prigionieri ribelli. Ti prego, liberali. Grazie a tutti. 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 sudato. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Non ne sono sicuro. Sembrano una specie di droni armati. Eden. Sì, era una multinazionale importante ai tempi. Facevano ricerche super avanzate in campo scientifico. Robotica, aeronautica, nanotecnologia. Fammi indovinare. Un altro dei tuoi clienti, Sheldon? Dove li posso trovare? Ehi, ehi, calma ragazzo. Ho solo riconosciuto il logo, ma pensavo che fossero andati in fallimento ormai da decenni. Beh, a quanto pare non è così. E ora bisogna fermarli. Ho un bel regalo per te. Una cosina che ti aiuterà a orientarti nei cieli. Fatta a medici per gentile concessione di Dima al-Masri. Tempismo perfetto. Ehi, attento, socio. Ho un brutto presentimento riguardo a quei droni. Dobbiamo sapere contro cosa combattiamo. Cerca di non mandare tutto all'aria. Niente paura. Furtività è il mio secondo nome. Numero uno. Il motore alimentato a Bavarium fornisce la propulsione e consente di decollare dal suolo. Ehm... Numero due. Accelera in aria per andare più veloce. C'è dell'altro. Importante. Il Bavarium è troppo potente e instabile. L'accelerazione verrà bloccata per pochi secondi per non sorriscaldare il motore. Dovrebbe evitare altre esplosioni. Buono a sapersi. Perché alla fine le invenzioni di Dima esplodono sempre. Aspetta. Questo ti aiuterà di certo. La frenata a mezz'aria può rallentare la velocità. Non mi dico. Ma consente anche un rapido cambio di direzione in volo. Sinistra. Destra. Su. Giù. Sicurezza prima di tutto, eh Sheldon? In prossimità del terreno, tirare il freno per atterrare in sicurezza. I test hanno mostrato un ridotto passo a sui borduri. Capito. Ma tu come sai di tutto questo, Sheldon? Come se avessi potuto scoprire questa roba da solo. Ho trovato alcuni appunti di Dima. C'è scritto qualcos'altro. Schivata rapida. Per evitare il fuoco in arrivo o gli ostacoli, eseguire un avvitamento. È possibile schivare in tutte le direzioni. Per evitare il fuoco in arrivo o gli ostacoli. Per evitare il fuoco in atto del suo pubblico. Non si può andare avanti per la terra. Per evitare il fuoco in atto. Per evitare il fuoco in atto. Per evitare il fuoco in atto. E' un'espausore. Per evitare le Russia. Grazie a tutti. 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 Allora, c'è un altro giocattolo per te. È anche possibile sparare missili a ricerca alimentati al Bavarium. Sono Enrico Rodriguez e sarete voi a pagare. Ouch! Allora, c'è un altro giocattolo per te. 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 Tecnologia dei droni e armamenti. Allora, c'è un altro giocattolo per te. Allora, c'è un altro giocattolo per te. Allora, c'è un altro giocattolo. Allora, c'è un altro giocattolo per te. Le tue azioni non intaccano la nostra organizzazione. Ascolta, un tizio che lavora il controllo del traffico aereo qui mi ha detto che hanno localizzato una specie di anomalia sopramedici. Qualcosa che ostruisce lo spazio aereo, dice. Gli ho detto di mandarti le coordinate. Ad essere la stazione centrale dei droni. Ti ho cercato. Il famoso Rinaldo Rodriguez, specialista in dimozione. Bene, Eden Callaghan. Chi sei tu? Cosa volete voi altri? Oh, quindi stavi ascoltando. Per un momento ho pensato che tutte le esplosioni e questi spari ti avessero dannato. Sto tenendo a prenderti, Eden. E ti fermerò. Non hai ancora capito con chi hai ragionato? Non è troppo tardi. Mi sto muovendo, Sheldon. Ma non capisco. Perché la Eden Corporation vuole tutto quel Bavarium? Non ne ho idea. Appare che non si facciano scrupoli a uccidere dei civili per averlo. Ecco perché ci sei tu. Quindi, armi al Bavarium per distruggere droni al Bavarium. Le solite cose, insomma. Guardate il rifiuto. Guardate il profito. Uh Employ cable. S.' Guardate il fuì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Sheldon, c'è un piccolo problema. Hanno un elivelivolo. Cosa? Un elivelivolo? Maledizione! Da dove diavolo ha saltato fuori? Sembra un enorme cisterna. Scommetto che è tutto alimentato con il Bavarium lì sopra. Questo spiega perché si dannano l'anima per estrarlo e ne vorranno sempre di più a tutti i costi. E non credo che chiederanno per favore. Non lascerò che facciano ancora del male all'agente di medici. Hanno già sofferto abbastanza. Già. Sì. Signori, con permesso. Se siete venuti per negoziare la vostra resa, vi farò un'offerta che non potete rifiutare. Ma se continuate a distruggere le proprietà dell'azienda, temo che ci saranno conseguenze spiacevoli. Questo è l'ultimo avvertimento. Bene. Allora, vediamo di provare a negoziare. Zio Sheldon al Maggiore Rico Zio Sheldon al Maggiore Rico La mano nera Ti dice niente? Militari loschi, corazze pesanti, ben addestrati Sì, esatto. Sono loro. Hanno catturato molti ribelli a medici e in altri posti in giro per il mondo. Pensavo ti interessasse, amico. Magari volevi salvarli o che so io. Il fatto è che non sappiamo dove li tengono prigionieri. Abbiamo scoperto solo che hanno approntato un aereo da carico su una pista d'atterraggio a nord-ovest di medici. Non sappiamo altro. È un'altra cosa che mi ha �q. Non sappiamo lo so dovrebbero. Non sappiamo. No sappiamo diFrame Rico. Non sappiamo le이랑, non sappiamo, non sappiamo. non sappiamo le raggi. Non sappiamo le raggiure. Perchiamo le raggiure. Grazie a tutti. 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 Ehi, Grazie a tutti. 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 Carriarmati in arrivo alla vostra posizione. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 ... a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. ... a tutti. 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 ... a tutti. a tutti. qui base. base. a tutti. 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 tutti. a 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 tutti.